8 arresti per l'omicidio di Ciro Colonna, il 19enne vittima innocente di un agguato di camorra nella periferia est di Napoli nel 2016. Un riciclaggio da oltre 100 milioni di euro, quello scoperto dalla Guardia di Finanza, fatture false e illeciti societari tra Campania e altre regioni. Eccellenza della ricerca italiana all'Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR a Pozzuoli compie 50 anni. I mutamenti nel linguaggio parlato nella nuova campagna sociale della TGR in Campania, il dialetto spesso prevale sull'italiano. Incertezza a centrocampo contro il Sassuolo con Amsic e Giorginio che potrebbero saltare il match per problemi muscolari nello spazio del calcio, anche il Benevento e la B.